Ma non è facile affrontare nessuno, non solo il Lanciano, è chiaro che le energie devono aumentare, perciò perdi in lucidità, devi cambiare per forza di cose l'assetto tattico come abbiamo dovuto fare noi che l'avevamo impostato in maniera diversa. Sassone ha fatto molto di più quando siamo rimasti in dieci che se rimaneva l'assetto tattico che avevamo pensato di fare, che avevamo messo in campo, con Marchi a presidiare quella zona, Marchi invece l'abbiamo dovuto dirottare, l'ho dovuto dirottare sulla fascia per la serie in mezzo a Flare d'Antonio, una somma di circostanze che non ci ha favorito. Però, ripeto, i miei giocatori sono stati lì, si sono impegnati al massimo e hanno dimostrato che sono ancora vivi, che ci crediamo ancora, sicuramente. Ma noi potevamo fare qualcosa di più, purtroppo abbiamo avuto un cammino altalenante, abbiamo perso troppe trasferte che ci hanno penalizzato, ci hanno costretto sempre la domenica successiva a Cozza, altrimenti rimanevamo staccati, perciò anche lì è stato un dispendio di energie mentali non indifferente, perché per rimanere attaccati al carro bisognava aumentare ancora di più le capacità, noi siamo ancora lì, dispiace perché oggi i risultati che provengono dagli altri campi ci avevano fatto sperare, anche un punto poteva essere una cosa importante, non ci siamo riusciti ma non vogliamo vincere.